Dobbiamo smettere di giocare alla logica delle bandierine, cioè ognuno cerca di prendere una posizione per difendersi. L'uscita di Venere, di Fratelli d'Italia, c'è l'uscita di Ceccarelli e di Robertis. Allora, affrontiamo la politica quella di spirito di servizio, di dare una risposta alla comunità. Bisogna ritornare al progetto originale, che era la prima variante, della quale questa variante fortunatamente è stata tolta la rotatoria del Pollino, quella che conduce a Bibbiena e che quindi consente almeno di avere una prima opera risolta di questa variante. Ma il secondo progetto, dove in questi mesi c'era stata una serie di comportamenti, secondo me, non adeguati, perché i tempi per poter realizzare, visto che il finanziamento consentiva di avere opere canteriabili da parte del Ministero entro del 2022 e ciò non era possibile, perché c'è di mezzo un sequestro della Saci. In funzione di questo sequestro la variante portava a creare problemi a una o due o tre aziende. Un'azienda sicuramente addirittura li passava sopra mezzo capannone e creava chiaramente grande incertezza economica, problemi sociali perché questa azienda poteva arrivare fino alla chiusura. Siccome oltretutto Italia Viva tramite il suo capogruppo aveva fatto l'interrogazione all'assessore a maggio e l'assessore nella risposta all'interrogazione del capogruppo di Italia Viva, il dottor Scaramelli, aveva posto proprio nel comma finale che sarebbe stato comunque al di là del secondo progetto della variante, sarebbe stato dovuto verificare le disponibilità delle risorse economiche e conseguentemente valutare cosa comportava la seconda variante rispetto ai problemi delle aziende e del territorio. Credo che lì in quel comma finale c'era la sintesi del perché lunedì 11 la Giunta, vista la situazione e visto che si prendeva il finanziamento, ha deciso di spostare 18 milioni e 700 mila euro rimanenti rispetto al progetto iniziale, il progetto della variante presentato, il primo progetto e a questo punto la variante rimane solamente il lavoro fortunatamente della natuatoria del Pollino. Allora io dico finale che mi sembra opportuno, lavoriamo tutti dalla stessa parte, non è un problema di opposizione, di maggioranza, questa è una storia che è nel bene di questo territorio e quindi lavoriamo per cui di arrivare alla fine sulla finanziaria 2023, mi auguro che il governo vada avanti e quindi ci siano le condizioni e con la finanziaria della regione 2023 di trovare quelle risorse che ci portino al primo progetto, perché in questo modo dammo una risposta anche di certezza, ma lo dobbiamo dire tutti a questo punto, per cui anche l'azienda che maggiormente era quella colpita in questa vicenda, la TLF SRL, possa andare avanti, continuare il suo percorso di crescita, perché è un'azienda che si occupa e produce materiali sullo sviluppo sostenibile e voi capite che questo è un momento importantissimo, perché con tutti i finanziamenti europei questa è solo una di quelle opportunità di crescita e di sviluppo per un'azienda.